e poi come dico sempre se il picchio sta in vetta me ne frego della sciuetta insomma anche perché non è che capita sempre, ridiamo, certo se fossi l'allenatore dell'Inter e del Mino della Juve non so se questo detto sarebbe no però visto dell'Asco e dai questi ragazzi lo merito perché penso all'interno di una spogliatore ci deve essere la giusta tensione ma anche la giusta allegria perché questo è un gioco, è un gioco per cui non dobbiamo mai smarrire la giusta identità e il giusto significato di questa parola Io insomma il calcio di Serie B non lo seguo più, seguo sì e no la Serie D perché faccio il sindaco per cui io non mi occupo solo di Serie D per cui non sono in grado di esprimere giudizi su un calcio che poi non mi appartiene più Io ho dato un significato che è stata una testimonianza anche d'affetto per quei due anni straordinari che ho passato ad Asco La solidarietà dal 24 agosto batte forte Qui è un luogo simbolico perché è un luogo a me caro per tanti motivi che non starò qui a ripetere Questo è un paese che avrà un futuro se tutti quanti ci rimetteremo gli scarpini a sete a chietti come era una volta Grazie a tutti